Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi siamo venerdì 30 alle 23 e 21 siamo a luglio e domani mattina sveglia alle 5 e mezza direzione Orbetello per la prima volta andrò ad Orbetello, sarà una vera scoperta per me, mi hanno detto che è uno spettacolo e non vedo l'ora di arrivarci quindi, dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 150 mi piace per questo super video perché sono sicuro ci sarà ignorenza a fiumi e via con la sigla iscrivetevi al canale porco cane orbetello ragazzi prima volta nella vita orbetello il parereadiso nelle spigole top water quindi vai simone e intanto pesco normale provo un po' le esche è un po' le esche ok si vola dai minchia complicatino questo posticino però fa rumore mi piace è grossa è grossa è grossa spidex cosa ti dicevo porco è grossa porco cane se è grossa boh baby boh e continuiamo con lo speedx ragazzi lo speedx una delle migliori esche top water soprattutto quando c'è da far casino in questo caso tanta onda, tanto rumore tanti sghinzi in acqua, tanti schizzi fanno solo bene no ho seguita, cazzo ho visto una scodata qua sotto allora ragazzi approfitto un attimo del momento per spiegarvi la giornata intanto potete iscrivervi al canale, lasciare like e anche commentare qua sotto allora la Seabass League è una giornata che abbiamo organizzato tra di noi membri di Seika per provare un po' il campo ma anche per passare in amicizia ovviamente in questa Seabass League c'è una premiazione infatti si va a cercare il big fish ovviamente chi prende il pesce più grande arriverà per primo e poi così a scalare quindi chi becca il pesce più grande becca il primo posto grossa cacciata grossa cacciata poi una enorme me l'ha mancata ce ne avevo 4 o 5 dietro ecla 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info porca troia per ora la mia è più grande occhio occhio a 57 bella preso piccolina dottore f dottore f bellina guarda com'è ingoiato mi sono girato ok orco cane ragazzi blackwater dottore f e via spigolotta presa presa piccolina sempre dottore f 85 questa è una mignon veramente guardate qua è grande come riesca tra poco andiamo a slavarla oppla appunto buono simon ne ha fatta l'altra piccolina però ok salamiamola diretta in acqua questa piccolina e via ciaido 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 presa bella spirit raga e dottore f è un bel pesce no hai preso male però al signor pesce è un signor pesciotto spigola bellissima Grazie a tutti